Resterà in carcere il 33enne Domenicano, residente a Perugia, accusato della morte del connazionale Joel Ramirez Seipo, colpito da un arghile di vetro al collo e nella rista fuori da un locale di Terra Nuova Bracciolini. I giudici del Tribunale del Riesame di Firenze hanno respinto la richiesta di applicare una misura alternativa. La difesa aveva puntato sulla riqualificazione del fatto, ossia un omicidio preterintenzionale. Il 33enne sostiene infatti di non aver avuto la volontà di ammazzare il connazionale, ribadita invece dai giudici fiorentini, la natura dolosa. I fatti di sangue risalgono allo scorso primo ottobre, un episodio violentissimo conclusosi con la morte del 38enne raggiunto al collo da un frammento di un'ampolla di vetro per fumare il arghile che si è infranta negli scontri e che ha provocato la morte per un'emorragia gravissima. A distanza di una settimana dai fatti furono i carabinieri a rintracciare il presunto omicida grazie a testimonianze e immagini di video sorveglianza, decisive le scarpe rosse che il 33enne indossava quella notte.